Sono Evo Livero di Cambiare Rotta e sono qui in piazza perché pensiamo che oggi non si debba scendere semplicemente al fianco del popolo palestinese contro il genocidio portato avanti da Israele ma anche contro la torsione autoritaria che stiamo vedendo accadere in tutto il nostro occidente. In Francia, così come in Italia, stanno venendo impediti i cortei, sta venendo criminalizzato il sostegno alla Palestina e le aggressioni si stanno susseguendo sempre di più contro attivisti e contro chi porta avanti anche solo un minimo di critica a quella che sembra essere la narrazione fissa da parte di tutto l'arco parlamentare nel nostro paese di appoggio ad Israele nonostante tutto e senza se e senza ma. Ecco, noi non ci stiamo e siamo qui oggi in piazza per dire che non è possibile che questo silenzio assordante dell'Occidente sia complice del più grande esterminio del XXI secolo.